Un altro pezzo del puzzle della ricostruzione dell'Aquila si aggiunge con la riconsegna del Torrione a 13 anni dal sisma, uno dei simboli dell'Aquila antica, collocato nell'omonimo quartiere. L'intervento di recupero è stato finanziato completamente dalla Fondazione Carispa che da Lance, che ha seguito la direzione dei lavori già all'epoca del precedente presidente Adolfo Cicchetti. 200.000 euro per riportare il simbolo all'antico splendore, i tempi si sono un po' allungati perché è stata necessaria una variante al progetto iniziale, perché fu ritrovato durante i lavori il basamento in pietra. Il Torrione testimonia la presenza della medievale infrastruttura idraulica che consentiva di portare l'acqua dal vicino canale a superficie libera sino al pianoro in cui c'era la città, superando con un acquedotto il dislivello ancora misurabile dai piedi sino alla sommità della collina storicamente urbanizzata. Il Torrione si collegava con un'altra torre più piccola a monte per arrivare alla casetta dei Fontanari che si trova proprio al lato della sede attuale del Lance. Il condotto fu realizzato a partire dal 1309 e serviva una popolazione di circa 15.000 abitanti. Il Torrione è stato sempre una realtà nella quale ci si è passati vicino ma non è stata mai una realtà nella quale ci si può soffermare. Infatti voi avete visto tutto quello che è stato fatto addirittura nel senso che c'è la possibilità anche di sostare in questo spazio che ridiventa di questa realtà dell'Aquila ma ridiventa di tutta l'Aquila. Ma è importante sicuramente questo perché l'importanza dell'Ange e l'Ange ha quelle sensibilità proprio per partecipare, per realizzare e far sì di star vicino al contesto cittadino. Anche l'area vicina alla torre è stata completamente riqualificata e c'è una nuova fontana. Pannelli informativi spiegano la storia e sono presenti anche illustrazioni per persone con disabilità.